Carca miseria, non me ne ero accorto Sì, vabbè, regà, a dettagli è partito dopo tre quarti d'ora, ma non fa niente Oggi, regà, siamo ritornati in un video di Fortnite, già ve l'avevo promesso che ve ne avrei portato un altro E questa volta ci troviamo in compagnia di Gamer5812 Ciao, Gamer! Ciao! Oggi, regà, ovviamente si prova sempre ad andare verso la vittoria reale O almeno si spera Vai, mettiamo pronto e andiamo, regà, oggi si sboccia, si sboccia tantissimo Probabilmente quei fai, vuole dare anche lui una mano, vuole dare, ma non ci riesce Sboccia tantissimo Sboccia tantissimo Se regà vedete che il wifi fa cagare e che laggo potreste capire che dal fatto che laggo solo per il fatto che sto caricando già un video su youtube e poi vi sto scaricando anche il FIFA 19 per il prossimo video quindi non rompete se non funziona il wifi, grazie anzi donate un povero youtuber di cui ho bisogno di un wifi migliore comunque ragazzo dove atterriamo? andiamo all'agenzia no troppo incasinato non ci andiamo parco parco tutti a parco via vorrei andare all'agenzia ma l'agenzia è troppo incasinata dopo vai verso l'infinito e oltre il problema tengo messo come l'audio premi e parla quindi non riesco manca a parlare sempre con te quindi devo disattivare questa funzione un secondo mamma mia che brutta la gata che mi fa perché fortnite mi vuoi così bene e poi? aspetta aspetta che non riesco manca a camminare fra poco c'è un po' di gente c'è gente in Italia attenzione io vado qua io vado qua almeno c'è meno gente ma te stavano due o tre che stavano venendo quindi attenzione per te orco 2 non si spacca e vabbè trovo solo munizioni ma non è normale con questa cosa con questa cosa non è normale trovare solo munizioni vi prego un'arma vabbè sono fissati mi voglio aiutare le munizioni non venire che sono entrano sono entrato qua no vieni qua vieni qua che ho trovato una cosa interessante solamente che siamo c'è gente porta miseria oh no sento che sono due di una nella casa però sono morta ovviamente mi dovevano ammazzare no vero pinguino obligo ci sei? mi sti pronto? no appello mi stia mi stia ma mi stia mi stia il si si su si mi stia si tu si il si si Vabbè Vigiamo la vittoria su questo dai Sembra che ancora sono vivo Però sto facendo il download di FIP19 Mi sa che lo devo distaccare Mi mancano 4 giga però cavolo Allora Microfono aperto così non devo tenere premuto il pulsante per parlare Dove atterriamo? Borgo? Mi senti? Mi senti parlare tu? Sì, mi sento Ok 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 Grazie. Ok, ok, ok. Allora, allora, sono intornato. Sono ancora vivo. Eh, non è possibile. Ma che è stato preso per il culo? Scusate per i moderatori di YouTube, ma... Eh, ci sono due persone. Eh, a me mi ha fatto. Mi ha fatto. Cioè, cioè, quando mai? Cioè, neanche il tempo di iniziare la partita mi parte, qualcuno mi viene da ammazzare. Non è possibile. Mi sapevo che ci sia di nuovo a favore. Eh, facciamo come se non fosse successo niente. Moderatori di YouTube, vi ringrazio in caso mi dovreste bannare il video. Non vi preoccupate perché alla fine poi lo monterò io e vi manderò a fanculo con le censure. Fanculo YouTube! Vabbè, inizio la registra è già da ora, già da quando siamo sul busto, così non perdiamo tempo e andiamo in una parte buona. Qua sì, YouTuber mi vuole... Sto stimolato... Vabbè, intanto faccio la seconda parte. Ok, raga, abbiamo fatto partire una seconda partita bellissima. Proprio lucidissima, nuova o nuova, come se non fosse successo assolutamente nulla. Ho disinstallato, ho annullato il download di FIFA 19 e così nel prossimo video vi attaccate al K. Non finisco di dire la parola. Però nel frattempo vi posso portare Fortnite almeno. Sembra onesto, gamer, sta cosa che... Vogliono che li devo portare Fortnite, però se vogliono che li devo portare FIFA dopo si attaccano al K. Uh, iniziamo già benissimo con una bella pistoletta. Pampa fucile. Un fucile da caccia. Un pompa del nonno. Oh, ma si vive? Gamer? Ci sono, ci sono. Ah, non ti sentivo parlare, è morto. Concentramento. So se sembra un po' come gli altri YouTuber, silenziosi quando giocano non fanno mai... Porca, no, 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 sto solo per la vita di morire niente di che fortunatamente ho preso le bende ok la saluta del 85 per cento almeno questo è interessante qualcosa di buono sarei fatto io non vuoi male stendendo il c4 a 30 ecco qua dove stanno questo? vedo se troviamo qualche stronzo che vuole fare quello skill c'è la c4 vado oh ma ci credi che nella partita che ho fatto nello scorso video vabbè che in poche parole già sai tu come l'ho fatta sempre oggi era ho trovato solo un bini c'è tutti quanti quello che tutti quelli che trovavo tutti quanti che non sapevano neanche neanche sparare quindi meglio eh cioè addirittura uno stava alla fine video a fine partita no mi sono rimasta a guardare gli ultimi non sapevano non camminavano neanche che cioè stava una fenga un altro la non si sono toccati minimamente oh oh chi è sto stro oh xp mio ah mitraglietta aspetta che la devo scambiare fanculo ma sto trovando solo mitraglietta eh ma siamo soli un baracadu non è sto baracadu non serve a niente io voglio capire tu eh dobbiamo scappare molto urgentemente perchè la tempesta ci fa per pochi metri da noi andiamo via verso l'infinito e oltre questo video farà forore su youtube i moderatori mi ammazzeranno però secondo me agli iscritti piacerà molto ma perchè non mi voglio anche salire qua sopra vuole vedere sto costi xp mannaccia allora costruiamo con l'ora di esplorare il pc ah no perchè cazzo bastardi ti racconta un po' da quanto tempo che sei su fornit a giocare? eh sarebbe da stamattina giusto al tempo che l'ho finito di scaricare però nella versione da pc perchè dopo c'è la versione da telefono che se non mi ricordo male già ci avevo fatto un video con te regà non so se l'ho riuscita a riconoscere dalla voce vi ricordate quando vi ho portato il video con Paolo Meglio? quella partita a fornit che era andata a finire male che era fatta col telefono regà bene quel video è stato cancellato da youtube per colpa di youtube per colpa di tutto e soprattutto per il fatto che faceva schifo perchè non sono riuscita manca a fare una partita il video durava 20 minuti iniziamo già dicendo con questo comunque regà quel video aveva anche fatto molto mi piace il fatto che youtube me l'ha cancellato per quello che era successo non facciamo dettagli questa sera me lo mettevo anche in sopravversione il video sfortunatamente non so più come recuperarlo perchè il telefono bene e sapete che ho preso lo z flip e quindi tutte le clip che avevo fatto tipo con quei telefoni vecchi le ho cancellate tutte perchè si che ho 256 giga di memoria ma lasciamo perdere avere un telefono pieno di video che poi non servono neanche a niente quindi 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 allora potremmo scambiare le bande bevi prendiamo questa bevi nooo venga ho cliccato posso bere la bottiglietta ho preso la stavo sparando con la mitraglietta al pavimento attendo la stessa e dobbiamo scappare hai uno scildone? no che peccato seguimi adesso è anche presto a te ehm ci delle trasportiamo porco pazzillo andiamo verso la safe faccio uno bello elicottero ci vuole oh cosa c'è? che sei entrata? ma che cazzo? noo what the fuck ma hai visto sta cosa? cioè in due secondi siamo arrivati a parco sei ok e se ora andiamo a prendere le ricostre la prima volta che lo sapevo la prima volta che lo sapevo vabbè tu a parte che ci proprio ci li guardi sia i video su youtube sia altro per la fornit quindi vabbè invece non ci passa neanche due secondi a guardarci un video di fornit su youtube vai provo a costruire col mouse nuovo sta sta yuhu yuhu che bello avere il mouse con le funzioni che tu vuoi andare dove cazzo di fare piace allora questo è sicuramente c'è gente vero? ooooh aiuto 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 non sono molto amici sono sempre quelle tesite di caspita qua sotto qui ooooh quei disgraziati che io pillerei a paccheri dove sono? dove sei? muori ah muori 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 il cagnozzo muori mi piace la cosa mi sta nel culo si ah ti sei? ah si ti sei? ah si scambiamolo oh 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 stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo stai calmo sparò nel culo stai calmo oh mi tradotta poco rapido è buona porco due eh c'è quest'altro che mi vuole sparare oh porco due vieni qua che tu hai gli cialdini porco due ah non ce l'hai un pezzo di merda eh la che ti sento eh ti servono le bende e ti c'hai un po' di spazio che te le puoi mettere da qualche parte no no io non posso eh però io ne portami per la pistola buona uh la cosa qua la elicottero dov'è? lo guido io aspetta aspetta figlio di uuuuuh uuuuh c'è l'indini qua per te adesso sai dove stai dove stai che qua non sto a fare non vuoi che ce la fai adesso io mi guarda una prova per sali uuuuh sali un attimo io non sto ok vai dove sei qua 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 sali vai 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 muoviti mamma nooo non proprio così giusti in tempo porco due cammina muoviti muoviti l'elicottero del caspita che non sei per niente se cambiare posso su terra a terra a terra a terra vai saltiamo non sto scherzando a terra aaaaaa ma aspetta secondo me è meglio che ce li danniamo un po' che andiamo nella safe si si vai vai però non sa dire vai giù vai giù a terra a qua a terra a terra a terra a terra a terra tappi bello il problema se ti guarda ma non mi fa più scendere evviva a ho sceso aia 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 facciamo una cosa di buono sto spiegando le munizioni però vabbè oh oh l'ha puntato attention please io al frattempo lo colpisco spaccati vieni vieni oh c'è gente c'è gente c'è gente guarda questo è solo? e muore caspita sta qua sta qua sta qua guarda guarda che puo e muore c'è un compagno da qualche parte uh quanta bella ho c'è un compagno c'è un altro? si stanno divassando eh porca p***a usc'è un medikit buono e poi c'è gente anche da dire io nel frattempo mi faccio il medikit no cazzo son fottuto è morto ce n'è un altro aspetto ma sta ancora gente ci sta si si è si sta così eh ma così si sta forte eh oh cazzo eh vabbè e non è domica eh lo t'hanno fatto nooo eh non è domica minchia non me la no eh me la sto mando in due non si muovo 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 in due voi ve li godete ma io ci metto un botto solamente per renderizzarli quindi godeteveli almeno lasciate like mi piace farli anche i social andate a seguire anche Paolo Mail su Instagram vi lascio il nome in descrizione è vero che ti devono andare a seguire anche te no soprattutto per noi andate a seguire anche su tik tok come faccio a dimenticarmi le mie voce su tik tok quel social stupido che ormai ci faccio più video da sopra e poi mi spiegate come faccio ad avere 600 follower su tik tok e su youtube sono appena 63 iscritti e regà vi dovete iscrivere cioè passatevi a condividete il video ma almeno fatevi iscrivere alla gente se vuoi tutto regà andatemi a seguire su twitch che a breve inizio a fare delle bellissime live con qualcuno non lo so con chi ma con qualcuno sempre sicuro e' quella bellissima piattaforma viola che se no youtube mi banner il video quindi grazie youtube se non mi banner il video perchè non ho voglia di dimontarlo e di cancellare tutte le clip in cui ho bestegnato vabbè lo dovrò comunque pubblicare se no questo mi ammazzano veramente una cosa non supporto dell'agenzia è il fatto che ci sanno quei caffi schermessi di merda scusate toglierei le bestemmia i video di fornet probabilmente i video dovrebbero 10 minuti meno se andrei a tagliare ogni parte che ci sono un'altra cosa è un'altra cosa speriamo almeno di dire di riuscire a fare la vittoria a sopravvivere per fare la vittoria almeno quello Il timer sull'agenzia Su timer di un giorno La tolgono Aspetta perquisisci Oh guarda quanta bella roba qui sotto Guarda Oh Iniziamo già benissimo No 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 non ci credo Una leggenda Nessuno non c'è, sono solo caduto io Si e poi ci sono un scagnozzo qua Fai attenzione c'è una testa di minchies Volevo prendere l'arma Se la merda che mi sono scivolata ho caduto sotto Tranquillo tranquillo Stai pieno di vite e di scildini Vai che mi butto Mi butto mi butto C'è anche c'è la skin Siamo travestiti No come si fa? Dove? Oh guarda Ehi non so Quei bellissimi Attendo che si sparano Attendo che si sparano Quasi si Questi sono stronzi Ho capito un caspire di quello che avete detto Però vabbè Oh porco tu Ho cinque di vita Hai vinto Hai vinto Nelle partite quante le ho di quanto fanno così Vai Scudino 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 bellino Tu c'è amiga? Tu c'è amiga? Tu c'è amiga? Eh? Tu c'è amiga? Ok almeno un po' posso stare tranquillo C'ho lo scudino Almeno come se avessi 55 di vita Più o meno Più o meno Più o meno Più o meno Si mi sembra che sono ancora vivo Solamente mi sto facendo un po' un giro per fottermi le armi Oh che belle Va un po' sul fucile viola C'è anche da me eh? Sono ammazzata ma non so Guarda quello Guarda che li faccio Guarda che li faccio Guarda che li faccio di bello Oh così La scuola mia Siamo muoviamo Siamo muoviamo Oh cazzo Oh cazzo Va bene? Bravo Ci sei? Si sono ancora vivo Senti ti lascio guardare qua vieni Però è importante Senti ti riesco a sbagliare neanche un'ultima cosa Altrimenti Si va bene Con 35 di vita che voglio sbagliare più Chi che sei? Sceldini Miei Dammi Datelo passo uno aspetta No 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 vabbè sono qui Dobbiamo dover sessirci in qualche modo No dobbiamo trovare un medico No dobbiamo trovare un medico No dobbiamo trovare un medico urgentemente Sennò Io ho la cosa dei Oh qua c'è il cesso C'è quella cabina da trasporto Entriamo? Ok Iniziamo a andare un attimo Io vado Ciao amici Dove sei stessa? Ehm Sempre all'agenzia Sono finito sotto Dove stanno delle scale Dove stanno gli elicotteri In poche parole Se no Oh cazzo E c'è gente bellissima Che mi vuole tanto bene Che io gli spaccherei la faccia Ehm 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 Oh Questa è una ma... Ah Questa è la cabina è vera Non me la ricordo Ehm Ehm Vieni ma così Mi prendo anche io La copertura No 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 Però me la potete mai Perché guarda Non so che se non lo farà Ah 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 Ok Ehm Dove è? Dove è? Oh 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 Shieldone Ti serve? Ah So due No 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 Eh Ma due shieldoni Fateli Fateli Invece Invece Mi prendo Il fucile di precisione Silenziato No 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 Ah non solo colpo Bastale Sì Sì Vai 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 Che sono messo un botto Invece Guarda che fucile Guarda che fucile Invece Ehm Ehm È proprio andata a trovare Mo' la cabina di nuovo Sotto la Porca miseria Eccolo lo sapevo Forca No aspetta Quero non mi sono morta Miracolo Sono ancora vivo Entra bastardo Lui fa entrare Sì Ehm Voi S'entrato Ravestimento completo Come lo hai fatto scoprire Mi si è tolto Il costume Ehm Perché Sei passato Il tuo Il suo 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 ok c'ho 70 aspetta mi devo fare prima l'ascinatore vedete il fucile di precisione silenziale adesso ce l'ho uno uh guarda qua che bello questo scambia scambia bello gg e come impossibile me lo avevo fatto cioè dicono di 5 ma non lo posso scambiare adesso non lo posso scambiare adesso non lo posso scambiare adesso ma dove stai il numero non lo so non lo so si perchè se mi avvicino mi si tolgono il travestimento me ne so un quarto pure mo vai guida tu guarda che bello guarda che bello non ce l'ho non ho capito niente oh c'è la mongolfiera aspetta che torna niente anche io mina di prossimità vampo a fucile ah ah a te ti serve quando pare si prendiamoci il medikit e me lo faccio perchè ho appena 70 quindi tu stai full eeeh scusami si vabbè sono rimasto intrappolato nella scala questa è una cosa normalissima fatta 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 e prendi il medikit lascialo e prendi qua giù e qua e la scena 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 oh porco tu mi ha chiamato un colpo? dammi si non ci credo era 100 a 100 e mi è rimasto 40 nooo ci ho 20 dove faccio il medikit? vai 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 meno male che me ne hai fatto prendere ma c'è uno stronzo che ci sta colpendo ma c'è uno stronzo che ci sta colpendo nooo oh porco due che è? hanno pillato di mira a me e porco due sono colpendo solo a me mamma mi sto vedi già durato il mio vediamo se trovo qualche stronzo che lo colpisco a terra qua a terra qua a terra che prende una cosa c'è un altro bastardi ti colpisco c'ho 45 porca miseria nooo ehm ehm ma c'è un altro ehm ehm un'ultima ehm 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 come per te nostri appunto si dai saluta dai un po' tagli a sta parte ok design approvio approvio va bene equipaggia si scatta tre cose 100 V-Bucks e quattro costumi vabbè è stato bello questo comunque mi dicono sempre che vogliono il passportaglia vabbè comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina seguitemi su tutti i quali social che come al solito trovate nella descrizione seguite Paolo perché è un bravo giocatore è molto bravo e che dire ragazzi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi grazie